Il rappresentante degli studenti non è una figura mitologica, ma uno studente come te che sceglie di impegnarsi. Il rappresentante nel tuo percorso universitario è un punto di riferimento, sia nei rapporti interpersonali, sia nelle relazioni tra studenti e docenti. Ogni due anni si rinnovano le componenti studentesche all'interno degli organi universitari ed è tuo diritto e dovere andare a votare. Un organo è la sede in cui studenti e docenti si incontrano per discutere di questioni legate alla didattica e all'organizzazione dell'università. La comunità universitaria è formata da quattro organi maggiori che si occupano di organizzazione, coordinamento e programmazione a livello generale. Questi organi sono Consiglio di amministrazione, Senato accademico, Consiglio studentesco e Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità. Gli organi che si occupano invece in maniera specifica della didattica sono il Consiglio di dipartimento e il Comitato per la didattica, quest'ultimo particolarmente importante perché è composto da ugual numero di studenti e docenti. In quanto studente è fondamentale prendere consapevolezza dei diritti che ti spettano. Candidandoti avrai la possibilità concreta di dare voce alle tue esigenze e di contribuire al miglioramento dell'università. Al giorno d'oggi, inoltre, sono sempre più richieste nell'ambito lavorativo soft skills quali capacità di organizzazione, risoluzione di problemi, empatia e comunicazione. Essere rappresentante può aiutarti a sviluppare queste capacità. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio